Benvenuti al giorno numero 16 del calendario dell'avvento, mancano otto giorni alla vigilia, vi rendete conto? Nel giorno 16 questo mi mancava e mi serviva Lip & Balsam per le labbra e qui c'è uno smalto lucicoso con i glitter. Nel giorno 9, calendario dell'avvento di Rituals, una crema glow illuminante. Nel giorno 10, calendario, look fantastico, sapete che per chi non lo sapesse e che lo vede la prima volta arrivo fino a fine anno, Vitamina C è una maschera radial, brightening, illuminante. Benvenuti a questo Vlogmaster ragazzi numero 16, adesso vi porto con me ad Arese al centro commerciale, vediamo che cosa troviamo in giro, venite anche voi? Io intanto finisco il power cocktail, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Guardate che meraviglia questo albero! Sono le 10 e passa di sera ragazze e ragazzi il centro è aperto fino alle 23 e noi ci facciamo un giretto belli tranquilli senza venire di giorno che c'è un caos allucinante. E adesso saliamo al secondo piano, guardate qua che meraviglia! Ah wow! Bellissimo! Yeah! Finalmente si sente un po' di aria natalizia! Eccoci qua, siamo stati da MAC, ho preso dei lipgloss limited edition pazzeschi, è un rossetto pazzesco e c'è qua, non si vede più. Adesso volevo andare da Bersca perché voglio vedere se c'è qualche idea per fare qualche maglietta caina per Natale. Di look c'è tantissimo rose e fucsia per Natale, a me sinceramente non è che mi fa impazzire, cioè mi piace sì ma non per Natale, boh non lo so, non ce lo vedo natalizio. Fa strano stare al centro commerciale fino a tardi, però a me piace andare tardi quando c'è meno gente, se va il pomeriggio c'è un caos allucinante. E niente, abbiamo preso due cosine carine e poi come dicevo le vedrete nei prossimi video. Adesso piano piano ci incamminiamo. Volevo far vedere una cosa da HMM. La signorina Lupita ha fame, vuole andare a casa a mangiare subito. Ecco qua, siamo al pian terreno, piano piano, qui ci sono due pelosi che sono stanti anche loro, ci stiamo dirigendo da HMM come vi dicevo e c'è questa bellissima maglietta che vi dico io l'ho provata, se andate sul mio Instagram lo vedete perché l'ho postata, però non lo so, non l'ho comprata, sono indecisa, dà un po' fastidio quel fiore così eh. A parte che rossa non c'era la mia taglia perché serve la HMM e c'è solo nera. Tutto, tutto rosa anche qua, cioè mi sembra di stare in primavera già, già, mi sembra un po' esagerato, no, non ci siamo proprio, già questi colori qua sono un po' più invernali. Le persone si stanno dirigendo verso l'uscita, c'è un altro cagnolino. E' freddo che fa, si sta bene a caduccia, al caldo. Ciao, ci vediamo al prossimo Vlogmas domani, ciao!